iniziamo dalla 11 dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa in A1 per lavori stanotte in orario 22.6 chiuso lo svincolo di Firenze Nord in entrata in direzione Roma e Bologna in uscita provenendo da Bologna in Fibillis è verificato un incidente tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Livorno a Firenze per la tramvia sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione in Viale Belfiore e nell'area dell'intersezione con Via Marcello e Viale Redi i vieti di transito in orario 21.6 e restringimenti di carreggiata Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!